E noi adesso ci colleghiamo col Ministero dello Sviluppo Economico, dove oggi si torna a parlare della vertenza acciai speciali di Terni, un incontro importante che vede il Governo impegnato in prima persona. Fabrizio Angeli. Buonasera, il Vertice ha iniziato. Noi abbiamo con noi Marco Bentivoi della Fimcisle. Allora, la notizia è che comunque andrete il prossimo 17 novembre a Bonn direttamente a parlare con il board della ThyssenKrupp, i proprietari degli acciai speciali Terni, forse porterete anche con voi i lavoratori. Però intanto oggi si torna a parlare, dopo un periodo di scontro, con la proprietà di un nuovo piano industriale. A che punto è la trattativa? Intanto il 17 andremo a Monaco per verificare le intenzioni di lungo periodo della ThyssenKrupp. È chiaro che il negoziato, il confronto sul piano industriale si farà qui a Roma, si proseguirà in questa sede. È qui che devono arrivare le risposte. Noi abbiamo appena formulato all'azienda, alla presenza del Ministro Guidi, tutte quelle che sono le nostre necessità, le domande sugli investimenti, sulle prospettive industriali, sulla capacità produttiva, sulla rete commerciale che servono ad assicurare a Terni un futuro di sviluppo. E ora in queste prime battute stiamo attendendo le risposte dell'azienda e che siano soprattutto un po' meno generiche che la volta scorsa. Velocemente, lo stesso Ministro Guidi ha detto che bisogna fare qualcosa perché si rischia di perdere clienti. Siete anche disposti, in caso di esito positivo, a interrompere lo sciopero? Ma la proclamazione di una lotta a oltranza non si fa mai per sport. Si fa in una situazione in cui il negoziato si rompe perché le condizioni sono assolutamente inaccettabili. È chiaro che qualora nel negoziato avvenissero delle novità vere e fossero confermate dall'azienda, noi discuteremo con i lavoratori in assemblea una eventuale riarticolazione delle lotte. Ringraziamo il segretario Bentivogli per essere stato con noi. Luca a Telalineo. Grazie a Fabrizio Angeli. La notizia, fra l'altro, è che oggi agli operai dell'asse di Terni sono arrivati quegli stipendi che l'azienda aveva preso.